In un jigger graduato misurate 4 centilitri di pisco e versateli in uno shaker. Ripetete l'operazione con 3 centilitri di succo di limone e 2 centilitri di sciroppo di maracuja o frutto della passione. Unite qualche cubetto di ghiaccio e la polpa di mezzo frutto della passione, agitando successivamente il tutto per pochi secondi. Versate in una coppetta da cocktail raffreddata in freezer e servite decorando col restante frutto della passione. Grazie per la visione! Grazie per la visione!